E' stato travolto da un'auto all'incrocio tra via Ricci e via Salsa di fronte alla caserma a restare ferito un giovane di 18 anni ora ricoverato al caffoncello di Treviso con un forte trauma cranico. L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle ore 14. Il ciclista stava procedendo lungo la pista ciclopedonale da Treviso in direzione di Villorba ed una volta arrivato al passaggio pedonale ha attraversato la strada senza però accorgersi del sopraggiungere di una Fiat Punto grigia guidata da un 64enne che arrivava dall'opposto senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i medici del suo M118 e la polizia locale. La prima a soccorrere il ferito è stata una neurologa che era di passaggio nella zona. Il traffico per consentire i soccorsi e i rilievi del caso ha subito pesanti rallentamenti.